La situazione è sempre la stessa, si parla, si discute, ci si aggiorna, però non succede mai niente, le istituzioni non ci sono, è sempre la stessa storia. Il degrado c'è tutto, c'è gente qui che non so, vanno a rubare la notte o meno, non si sa. Come ogni sabato, il consigliere regionale, Domenico Pettinari, si è ricato in visita in uno dei quartieri popolari di Pescara. Quest'oggi è toccato agli abitanti di Via Rigopiano, dietro l'ospedale civile, in cui i cittadini si lamentano di essere stati abbandonati dalle istituzioni. L'attenzione sulla sicurezza e la criminalità ordine pubblico, io la voglio riaccentere su Via Rigopiano, Ferro di Cavallo, Rancitelli, Fondanella e San Donato. La situazione qui è tragica, in effetti noi siamo veramente stanchi di questa situazione e poi qua si fanno solo le chiacchiere, noi vogliamo i fatti, perché così non si risolve niente solo a parlare. La linea dei Cinque Stelle è sempre la stessa, istituire un presidio fisso di forze dell'ordine per contrastare il business della droga. Accadde già nel 2011, raccontano alcuni residenti, allora chi viveva a dispaccio fu costretto a sopravvivere grazie ai pasti della Caritas. Però i grillini ora non chiedono più l'esercito di strade sicure, ma a polizia e carabinieri. L'importante è che non siano i vigili urbani, ritenuti non addestrati e mal equipaggiati. Tanti blitz stiamo vedendo, dispiegamento di forze dell'ordine, dispiegamento di risorse economiche importanti, ma il minuto dopo torna tutto come prima. Noi abbiamo la soluzione in tasca, perché l'abbiamo sempre detto, servono postazioni fisse H24 nelle quattro zone calde di Perscara. C'è unità fisse, carabinieri, polizia e guardia di finanza che stazionano H24, non blitz, perché oggi ci sei fa il blitz, domani non ci sei più. Quindi H24. Tra le varie problematiche è quella dell'abusivismo, seppur avvengano spesso gli sfratti che buttano le persone indigenti in mezzo alla strada. In alcuni casi però le abitazioni non sarebbero occupate da persone che non possono permettersi un tetto sopra la testa, ma da individui benestanti, sostiene Pettinari, che addirittura lucrano sulle case popolari, subaffittando come bed and breakfast gli appartamenti. Qui le occupazioni abusive sono sempre maggiori, sono criminali pluripregiudicati che gestiscono il racket dell'abusivismo, cioè occupano 5-6 abitazioni, le subaffittano e incassano soldi. Abbiamo scoperto che addirittura da poco cosa fanno? Occupano abusivamente per realizzare dei B&B, dei propri alberghi, a cui guadagnano poi dall'utenza abusiva che entra in questi alberghi. Dove sono gli sfratti? Non li vediamo. E poi pretendiamo, qualora dovessero partire, che vengano colpiti solo ed esclusivamente i delinquenti e i criminali, non la povera gente. Non vorremmo che magari vanno a colpire e a mandare fuori casa i poveri bisognosi, no, devono coprire i delinquenti, i criminali, chi magari sta all'interno della casa popolare e c'è la macchina a 70.000 euro parcheggiata sotto casa. Queste persone devono uscire.